Ben ritrovati con un nuovo appuntamento di 45 giri che ci permette di svariare in più campi. Raramente lo facciamo per il campo medico, ma oggi c'è un'occasione importante, forse unica, per il territorio della Valle Vibrata legata ad un congresso internazionale di ecocardiografia che si terrà a Civitella del Tronto venerdì 17, ma del quale parleremo nei dettagli con un ospite che vi presento fra qualche istante. Perché? Perché non sarà il classico incontro, peraltro internazionale, legato esclusivamente a tematiche di natura medico-scientifica. Sicuramente sì, ma non soltanto. E lo scopriremo parlando, e lo ringrazio per essere qui con noi, con il dottor Saro Paparoni, che ringrazio per essere con noi, dell'ospedale cardiologo dell'ospedale Mazzini di Teramo, perché è lui che ha organizzato questo incontro. E di questo incontro possiamo parlare in tante maniere. Iniziamo dalla cosa che può incuriosire molti, perché se c'è un'introduzione storica ad un congresso medico, già di per sé è una grande novità. Peraltro di un carissimo collega che è il suo Simone Serpentini. Allora, storia, medicina, e poi parleremo ovviamente del titolo che lo abbiamo riportato. Prove d'orchestra. Insomma, c'è tanto da dire. Intanto mi dica come l'ha strutturato, perché è una grossa novità. No, il titolo riassume il congresso. Riassume il congresso perché il direttore d'orchestra deve dirigere l'orchestra. Se tutti svolgono il loro ruolo da coloro che hanno uno strumento sicuramente più particolare, dal pianoforte che è unico, ai violini che sono tanti, ai contrabbassi, ma se tutti suonano all'unisono, il risultato è eccezionale. Il maestro è contento e la platea applaude. Se qualcuno stona, anche col più grande maestro, le cose non vanno bene. Dall'altro lato, noi abbiamo i pazienti. Questo significa che per avere i risultati migliori, noi dobbiamo fare in modo che la squadra funzioni all'unisono. Certo, non si può pretendere il fuoriclasse in ogni strumento, però è importante che tutti si aiutino insieme. Molte volte non succede questo e molte volte i risultati non sono eccezionali. In questo caso abbiamo il direttore d'orchestra, che io non ho il piacere di conoscere, ma che lei ha il piacere di conoscere e che lui forse avrà il piacere di conoscere una delle zone più belle del nostro Abruzzo, che è Civitella del Tronto e che è soprattutto la fortezza di Civitella del Tronto. Ci vuole presentare il personaggio direttore d'orchestra? Allora, indubbiamente Angel Garcia, che è un mio grande amico, ci siamo conosciuti qualche anno fa e poi è scomparsa quell'empatia, lui mi è venuto a trovare in Sicilia. Insomma, siamo diventati amici e pur essendo chiamato in tutto il mondo, non ha detto no a questo invito. E l'ho fatto presidente del convegno per questo. Lui è uno dei cardiologi più importanti d'Europa ed è la storia dell'ecocardiografia. Spagnolo. Spagnolo, Spagnolo di Madrid, è direttore della cardiologia di Madrid per l'imaging ed è presidente della società cardiologica spagnola e ci ha dato il gemellaggio, che è una cosa non facile da avere in un congresso sicuramente nato in un posto che a Madrid probabilmente non conoscono. Non lo conoscono e lo conosceranno ed apprezzeranno. Lui ama molto l'Italia, viene molto volentieri e anzi rimarrà un paio di giorni per vedere tutti gli intorni. Conosce benissimo Roma con cui ha rapporti mensili. Ha pure un master di diagnostica cardiovascolare ed imaging cardiovascolare, cui partecipano persone medici di tutta Europa. E devo dire che il mio desiderio è che nel futuro questo gemellaggio con una delle cattedre più prestigiosi della Spagna possa continuare in futuro in modo che tanti giovani possano approfittare di queste occasioni per poter poi migliorare la loro qualità e portarla soprattutto ad aiutare. E quindi a fare più diagnosi e ad aiutare i pazienti ad avere le cure migliori. Dottor Paperoni, noi abbiamo parlato del direttore d'orchestra. Fra qualche istante, appena possibile, i nostri colleghi in regia ci mostreranno la locandina dell'evento, no? Perché anche lì ci sono delle grandi particolarità. Particolarità legate a tante idee che sanno di modernità, di cose di estrema attualità. Come nasce l'idea di presentarsi a questo territorio e all'Italia intera in questo congresso e passando per queste strade che esulano, ripeto e lo sottolineo, ecco intanto la locandina, che esulano dalla normalità. Ci spiega intanto, ecco, un attimo su quella foto restiamo. Rivaniamo su questa foto che è quella che ho accennato prima, cioè la foto è fondamentalmente un complesso, la sanità è un complesso, in cui devono svolgere il loro ruolo i medici, i medici apicali, i medici che svolgono le attività più complesse, più particolari, chi è più bravo e chi è meno bravo, questo è normale. Ci sono gli infermieri che rappresentano il cardine, l'assistenza diretta del malato e poi c'è la parte amministrativa che fondamentalmente deve avere la capacità di pianificare il futuro e di far sì che il prodotto finale, cioè la salute, venga reso nel migliore dei modi e più semplicemente nei modi. Questo molte volte non succede oggi, perché la burocrazia che si cerca di ridurre è diventata sempre più importante ed è questo un grave crucio. Io ormai, è quasi 40 anni che faccio questo lavoro e le cartelle cliniche diventano più vuote di anamnesi e notazioni dei medici e più pieni di consenso informato. Questo è veramente un assurdo, perché questo è nato dalla medicina difensiva e ci si difende dalle carte, ma da chi ci si difende? Dal paziente. Fondamentalmente si è rotto il patto millenario che c'era tra medici e pazienti, che non vengono più chiamati pazienti ma clienti, e da quando si è pensato che la sanità deve diventare un'industria, credo che si siano fatti molti passi indietro. La stampa ha una grande responsabilità in questo senso, perché ha sempre evidenziato storicamente tutti i fatti di mala sanità, poco meno quelli di buona o ottima sanità, dando per scontato che l'ottima sanità una volta raggiunta si possa mantenere nel tempo. Ed è invece un'utopia, perché per mantenere, come nelle squadre di calcio, per mantenere un certo livello, parlavamo prima, tu sei tifoso del Milan e io della Juventus, in questo momento io godo, dieci anni fa, gorevi tu. Mantenere il livello qualitativo per tanto tempo è assolutamente difficile. Presuppone investimenti, presuppone lungimiranza e presuppone fortuna nella scelta dei giocatori e del management. E su questo non ci sono dubbi, e su questo argomento io sono non solo d'accordo, ma vorrei dedicare la seconda parte di questo spazio, che consta in due spazi di 20 minuti cada uno, nella seconda parte sviluppare questi temi, ma anche parlare dei grandi progressi che sono stati fatti nel campo della cardiologia, progressi incredibili, cui accennava lei stamane in conferenza stampa a Teramo. A me quello che ha incuriosito all'inizio, subito, da Chitto è stato il fatto che la storia la lega a questo congresso. E partiamo dalla storia. Perché legare la storia di questo territorio al congresso internazionale di ecocardiografia? Io sono convinto che se l'uomo conoscesse di più, l'uomo moderno, perché l'uomo antico lo conosceva, di più la storia farebbe molti meno errori. Tutto sommato, come diceva Gian Battista Vigo, ci sono corsi e ricorsi storici e tutti sanno che la storia la scrivono i vincitori. La fortezza di Civitella rappresenta una storia scritta dai vincitori. I piemontesi hanno preso Civitella, hanno proclamato l'unità d'Italia. In realtà in quel momento poi Civitella si era ribellata per un giorno e quindi hanno proclamato l'unità d'Italia quando ancora c'era Civitella per un giorno solo e poi l'hanno bombardata, l'hanno distrutta, interrompendo la distruzione soltanto quando stava crollando tutto sul paese. Ora, i Borboni sono stati sicuramente un popolo che ha lati negativi, ma non ha solo lati negativi, ha anche tanti lati positivi. Non dimentichiamo la cultura di Napoli e di Palermo che erano nel 1860, nel 1850, nel 1840 delle capitali d'Europa dove si svolgeva la vita sociale d'Europa, dove i più importanti rappresentanti dell'industria, dell'alta borghesia e dell'aristocrazia si regavano. E come sono stati poi piano piano, piano piano, immarginati e ridotti soltanto a delle città in cui possiamo vedere le vestigia del passato. Questo vale a Napoli come vale a Palermo. Ora, noi dobbiamo riappropriarci del passato, secondo me, e per riappropriarsi bisogna conoscerlo. Io ho dato una lezione sui Borboni al presidente della Società Italiana di Ecocardiografia. E quindi che per la prima volta nella sua vita va a fare una lezione, sono curioso pure io, lui è rimasto colpito perché ogni volta viene chiamato per parlare della sua materia. Ma essendo un napoletano, ed essendo un napoletano colto, sicuramente farà una grande lezione. Allo stesso modo, il professor Serpentini, che conosco molto bene e che quando avevo qualche anno in meno, mi intimidiva perché la prima volta... No, io non sono stato suo, mia moglie è stata sua allieva e mi raccontava le sue interrogazioni. Poi, anche quella, c'è una sorta di nemesi. In realtà, lui interrogava le persone, le ragazze e i ragazzi, facendo scorrere una sigaretta sul registro e che chiaramente andava quasi sempre allo stesso posto. E faceva sedere le ragazze perché altrimenti svenivano. Quando io andai una volta in televisione, 30 anni fa, ero molto impressionante. Questo è il professor, per favore, non mi metta troppo in difficoltà. Sono passati tanti anni, lui è diventato il mio paziente ed ha un terrore alle malattie. Per cui, quando l'ho chiamato per dirgli se voleva farmi la cortesia di fare una lezione, mi disse, ma cosa è successo, cosa è successo, non è, non so bene, non sto bene. No, io gli ho detto, stai tranquillo. Ci vediamo alle nove e mezza, davanti all'uomo, devi farmi una cortesia, mi devi fare una lezione. E quindi questo è il corso. Le confesso che se ho imparato qualcosa di questo lavoro lo devo a lui, perché io ho avuto l'onore di far parte della sua esperienza televisiva. Lui è una persona dell'intelligenza superiore, con estremi cose che si possono non condividere, ma tutta la famiglia ha la fobia delle malattie. E poi ho chiesto come atto doveroso a una persona che ha cercato di dare lustro alla fortezza, a Itali Dalmaggio, che è stato anche direttore della ASL in tempi passati, e quando ancora c'erano le vestigie della vecchia organizzazione, e che è stato un ottimo direttore, mi è sembrato giusto fare questo omaggio personale. Bene, storia, ecco, bellissima peraltro questa foto, sulla quale ci eravamo soffermati poco prima. Intanto vi dico, ma perché l'ho saputo qualche istante fa, che il primo a destra dei vostri teleschermi è il professor Miguel Angel Garcia Fernandez, del quale parlavamo prima, che ha in mano una bacchetta da direttore d'orchestra con in cima un corvo. Un merlo. Un merlo. Questo è quasi uno scherzo. Un gruppo di amici, ritenendoci un pochino fessacchiotti o visionari, ha deciso di mettere nelle proprie diapositive o nei propri convegni questo simbolo, ma insomma non ha un significato particolare. Lui l'ha visto, il professor Garcia, questa locandina? Sì, sì, l'ha visto, l'ha visto. E che cosa ha? Che impressione ha ricavato? Potrei farti vedere su WhatsApp che cosa mi ha scritto. Eresi un genio. Questa è stata la risposta. Quindi gli è piaciuta, l'ha apprezzata. Perché? Perché chiaramente, forse non aveva sicuramente ricevuto in un congresso un atto di affetto, oppure avere la sua immagine nella locandina o un congresso non gli era mai capitato. Non è una cosa comune, assolutamente. Sicuramente no. E l'ho fatto proprio, come ho detto, presidente del convegno, senza che lui mi chiedesse nulla, proprio per cercare di legare un pochino, di creare le basi per una collaborazione futura che serve soprattutto ai nostri giovani. Perché quelli su cui dobbiamo investire, non a parole, ma nei fatti, sono i giovani. I giovani medici che devono andare fuori, che devono stare fuori tre, quattro, cinque anni e ritornare poi, portando il loro know-how. Cioè non devono soltanto fossilizzarsi nella propria visione del giornaliero e assimilare soltanto i pregi e i difetti di una cultura, ma in una visione globale devono andare fuori e ritornare. Così si può arricchire, così un territorio può andare. Ma per fare questo è difficile, bisogna coltivarli, bisogna andarci dietro. Cioè l'ospedale di Teramo, io mi ricordo benissimo come è nato, ed è nato dalla ricerca di un manager, perché il manager non si chiamava tale, ma lo era, che erano Lolli e Gramenzi, che andavano in giro a cercare i migliori e per poi portarli a Teramo promettendogli il massimo d'appoggio che potevano avere. Non si può fare una selezione asettica indipendentemente da chi si presenta o non chi si presenta. Cioè bisogna pensare al futuro, investire sul futuro e avere una lezione che va al di là di noi. Lei ritiene che oggi la politica sanitaria nazionale, se vuole regionale, sia lontana da questi... Assolutamente lontana. Purtroppo è assolutamente lontana anche a livello degli apici, anche a livello delle strutture più accreditate. è assolutamente lontana, perché si è pensato che l'organizzazione sia più importante dell'atto finale. Non è così, non è assolutamente così. Cioè è sbagliato pensare che la sanità sia una Toyota e che quindi basta fare le caseglie giuste, sistemarle e poi chi ci mette i metti va benissimo. No, quello può essere importante, può aiutare. La tecnologia aiuta, ma il rapporto diretto col paziente, la capacità di discernere se sei malato o non sei malato, di fare la scelta giusta, che molte volte è assolutamente difficile, è legata alla cultura, al savoir-faire, all'educazione del medico, soprattutto del medico, mentre l'assistenza soprattutto degli infermieri. Quindi sto dicendo due cose che vanno insieme ma che sono separate. Sono divise, sì. E che oggi si muove con molte strettoie, perché io capisco i giovani colleghi che hanno paura e quindi ribalsano la responsabilità. C'è tanta gente che cerca di arrivare alla fine del turno per avere la responsabilità a quello successivo. Questo non va bene. Si chiama burocrazia e basta o c'è dell'altro? No, non si chiama solo burocrazia, si chiama medicina difensiva. Si chiama medicina difensiva che è un costo enorme, già stimato, e che è un processo dal quale è difficile difendersi. E che si può criticare fino a quando non si rimane incastrati. E' questo molto brutto, molto difficile. La maggior parte delle cause di malpractice contro i medici vanno a finire in niente. Però ormai ci provano tutti, perché se nessuno rischia nulla... Certo. E' come quando avere un incidente e chiedere... Il progressivo impoverimento anche della popolazione fa sì che gli avvocati cercano di spingere verso la lite. E questo naturalmente irrigidisce l'altra parte, perché avere una denuncia di omicidio colposo, perché è somministrato una compresa di tachipirina, è dura, ma è bene. È capitato. Abbiamo tre minuti prima dell'interruzione della prima parte di questa intervista. L'appuntamento è rinnovato per venerdì in prove d'orchestra, congresso internazionale di ecocardiografia. Però un po' di medicina dobbiamo parlare, di cardiologia in particolare dobbiamo parlare. Stamane in una conferenza stampa tenutasi alla Asta di Teramo, lei ha fatto dei riferimenti. Ricordo tre percentuali io. Ricordo un 30% che poi si è ridotto al 10% e che poi si è ridotto al 3%. Sono i passi essenziali della crescita che è stata fatta nel settore cardiologico? Allora, la cardiologia sicuramente negli ultimi 30-40 anni è la branca della medicina che ha fatto più progressi. Ed è sicuramente quella che ha migliorato la qualità e la quantità di vita degli uomini. Nessuna branca, nessuna. Ha fatto registrare questi progressi. Non si è avvicinato lontanamente a questi valori. L'esempio che facevo oggi si riferiva all'infarto del miocardio. Una persona che 40 anni fa aveva un infarto del miocardio era una persona finita. Stava a letto 30 giorni. Senza cure? No, no, faceva delle cure sostanzialmente inutili. Si aspettava la cicatrice. Si aspettava la cicatrice. Molte volte veniva un'embolia durante la digenza. E quindi c'era il 30% di mortalità. E poi molte volte faceva l'aneurisma. Poi si è passata alla trombolise che era stata scartata prima, che era il veleno dei serpenti fondamentalmente. E pur con il rischio di demoregia cerebrale, la riperfusione più o meno rapida dell'arteria ha determinato un miglioramento della prognosi. ed è stato il gruppo italiano, il GISSI, a riuscire a ottenere questi risultati strabilianti. E lì entra in gioco la statistica. Pensa un po' che fino a 10.000 pazienti, erano 11.000 pazienti schierati. Fino a 10.000 pazienti non c'era quasi nessuna differenza. A 11.000 pazienti il vantaggio è stato enorme per la trombolise. Poi naturalmente ci sono stati trombolitici che avevano sempre meno effetti collaterali. I risultati sono stati progressivamente migliori, però c'è il rischio dell'emorragia cerebrale. Si è capito il discorso del tempo. Prima fai e meglio è. Il tempo è muscolo, è un concetto fondamentale. E poi si è arrivata l'angioplastica. L'angioplastica che prima si faceva le lezioni, poi si è fatta sempre più d'urgenza. Ed oggi abbiamo la rete con l'AB e lo SPOC, con i raggi periferici che vanno al centro centrale. E tutto si gioca sul tempo. Se tu tratti un infarto entro un'ora hai un risultato in cui la quantità di tessuto morta è un grammo, due grammi. Se lo tratti dopo tre ore saranno dieci grammi, se lo tratti dopo sei ore saranno trenta. E quindi i risultati sono sicuramente più bassi. Stiamo parlando di una percentuale oggi ridotta al 3% dal 30 che era. Dal 30%, sì. I pazienti trattati con angioplastica primaria. Allora, ci fermiamo un attimo, poi entraremo nella seconda parte, soprattutto anche nel suo intervento. Nell'intervento che ci sarà in questo congresso, anche illustrato da Diapositive. Venerdì 17, la fortezza di Civitella del Tronto, si terrà un importantissimo congresso internazionale di ecocardiografia che stamane è stato presentato dal dottor Paperoni in conferenza stampa nella sede della ASL di Teramo. Queste sono le immagini che si riferiscono all'incontro tenuto stamane. Voglio aggiungere un'altra novità che ci rende anche un po' partecipi di questa grandissima iniziativa perché la nostra emittente, Super J, seguirà l'integrale dell'evento. Evento che poi vi irradieremo già dalla sera in prima serata in una puntata di approdo speciale nel corso del quale seguirete tutte le evoluzioni che si svilupperanno presumibilmente in due o tre fasi televisive perché ci sarà una giornata intera di lavori da seguire. Mentre le immagini possono continuare a scorrere, vedete il dottor Paperoni che è nostro ospite peraltro in questo 45 giri e prima di parlare del suo intervento voglio chiederle se tutto a livello organizzativo è filato liscio cioè se tutto quello che vi eravate prefissi per questo incontro è andato a buon fine. I risultati arriveranno dopo, però c'è una prima fase. I risultati sono andati bene. Ecco appunto, la fase di preparazione. Ora chiaramente la partita ancora si deve giocare, però in linea di massima ci sono tutti i presupposti per cui sarà un grosso risultato, una grande presenza attiva soprattutto. Ecco, quello mi prima di sottolineare è che tutti i convegni che io nella mia vita ho organizzato non sono convegni falsi, non sono convegni per vetrine, non sono convegni per farsi belli. Sono convegni fondamentalmente che servono a scambiare opinioni, alla crescita culturale e a risolvere problematiche legate a singoli pazienti. Quindi è un modo di trasferire le proprie esperienze da un professionista a un altro professionista in modo da cercare una volta che si è di fronte a delle situazioni che uno non conosceva avere l'esperienza degli altri. Altra cosa che mi è rimasta impressa da questa conferenza stampa che stiamo vedendo è stata l'aver ascoltato dirle perché noi analizzeremo otto casi irrisolti in Abruzzo. Parleremo di otto casi che riguardano attività del cuore che non sono stati ancora risolti o che presentano ancora delle perplessità o delle problematiche. Questa è anche un'altra grande novità, credo, perlomeno per quello che è di mia competenza. In realtà con venghi fatti in precedenza hanno avuto questa enorme quantità di casi clinici che venivano discussi da una platea di livello altissimo nazionale in cui i cardiologi anche con poca esperienza si confrontavano con i massimi esperti del sistema delle problematiche e quindi confrontavano i loro risultati, il loro caso con quello di persone che ne avevano visti magari dieci. di quel tipo e che quindi potevano dare delle risposte o porre dei quesiti che quel medico non si era posto in quel momento. Quindi un momento di crescita culturale fondamentalmente. Dottor Paparoni, le chiedo, in questo bel contesto, non abbiamo parlato di storie, abbiamo parlato della presenza di un luminare del campo, del professor spagnolo del quale devo imparare il nome, Fernandez. Angel Garcia Fernandez, lei ovviamente relazionerà, vuole anticiparci qualcosa perché come ho detto seguiremo i lavori, però se lei vuole anticiparci qualcosa la nostra regia è anche nella condizione di poterla supportare. Io parlerò di un argomento che tutto sommato non ho mai trattato in un congresso, è che organizzando stavolta il congresso mi sono permesso il lusso di poter fare e dire. Fondamentalmente io sono convinto ormai per la mia lunga esperienza di medico purtroppo, o per fortuna, perché poi gli anni sono democratici, scorrono per tutti allo stesso modo, quindi quando ci si lamenta dell'età che passa fondamentalmente bisogna ringraziare gli anni che sono passati e quindi questo è un concetto sicuramente sbagliato. Ma noi altri viviamo in un'epoca in cui è cambiata la visione, l'uomo non vuole farsi vedere malato, vuole essere sempre in forma, vuole essere sempre efficiente, indipendentemente dagli anni che ha. C'è ormai quasi il complesso di Dorian Gray e quindi in cui non è che solo la medicina estetica che a volte come abbiamo visto e come possiamo vedere nell'esperienza di ognuno, molte volte fa danni, perché la prima volta che fai il botulino diventi più giovane, ma la ventesima volta che fai il botulino diventi un mostro, un pagliaccio, e dici ma come quella bella donna che una volta magari se avesse qualche ruga in più avrebbe la sua espressione e non sarebbe distrutto. La stessa cosa è nella medicina. Cioè noi in America hanno fatto un'indagine e hanno visto che l'83% degli americani, piuttosto che mille dollari di regalo, preferivano fare un'attacca total body. L'attacca total body a una persona come lei o come me, se la facciamo, io non l'ho fatta per fortuna, come non mi faccio la risonanza, ma non mi dica. Nel 98% dei casi ci fa vedere qualche cosa. C'è sempre qualcosa, lei dice? Assolutamente sì, nel 98% dei casi sono statistiche, queste si chiamano incidentalomi, cioè tu puoi trovare una malattia dove in realtà non c'è nulla, o alcune false malattie. Noi altri siamo una fabbrica di tumori. Nelle autopsie fatte nei pazienti con incidente stradale, le donne tra i 45 e i 55 anni hanno nel 40-50% dei casi un tumore alla mammella. Gli uomini hanno nella stessa fascia d'età, fino a 65 era la casistica, hanno nel 70% dei casi un tumore alla prostata, nel 100% dei casi un tumore alla tiroide. Molti o la maggior parte di questi tumori non verranno mai a galla, rimarranno lì, quieti, silenti, ma noi non abbiamo oggi la possibilità di sapere quello che crescerà da quello che non crescerà. Oggi che l'attacca è sempre più perfezionata e molto più comune, non si ha l'idea di quanti noduli vengono ritrovati, ma quasi nessuno ha l'idea di quante lastre viene esposto un paziente quando fa l'attacca. Rischiando. Ma è chiaro, se io ti dico, diamoci di tu che ti senti, se ti dico, vieni da me, ti faccio visitare, bene, allora guarda, ti consiglio di fare 600 lastre del torace. Tu che cosa mi diresti, sinceramente? No, io direi, dottore, io non le faccio 600 lastre. Ecco, benissimo. Non le faccio. Si mi diresti, no? Sì. Benissimo. Allora, devi sapere che ci sono persone che nel giro di un anno non ne fanno 600, ne fanno 4.000. Senza saperlo. Se io ti faccio fare una scintigrafia del cuore, ti espongo a 700, 800 lastre. Allora, questa conoscenza, e dopodiché il danno è stocastico, che cosa significa? Che una radiazione che agisce si assomma alle altre. Se tutti venissero a conoscenza di queste cose, non chiederebbero tac su tac, lastre su lastre e così via. Non lo farebbero. Ma in alcuni casi bisogna farlo, invece. Devi discernere quando farlo e quando non farlo. Io mi sono trovato, la settimana scorsa, a dovere dissuadere un paziente che aveva un'anemia terminale, refrattaria, in cui statisticamente poteva avere un mese, due mesi, sei mesi di vita. Non sono in grado di poter esprimere una prognose perfetta. E che si preoccupava di fare la rettoscopia di controllo. Tu non hai l'idea di quante persone fanno delle indagini per andare a prevenire un tumore futuro quando hanno un'altra malattia. Persone affette da tumori incurabili. Quindi non sono cose che legge soltanto sui libri. Ora piano piano si sta diffondendo. Ma è la realtà che incontri ogni giorno. Che incontri ogni giorno. Secondo me voi siete dei missionari. No, noi non siamo dei missionari. Perché io penso che ci voglia anche coraggio nel dissuadere un malato terminale dalla volontà di illudersi che magari capisce cosa vuol dire. No, io ho capito quello che vuoi dire. Io ti dico la parola missionaria ed eroi che viene molto inflazionata e diffusa come gli eroi dell'antimato. che io conosco bene. Lasciamola a chi la fa veramente. Noi dobbiamo avere la certezza, la conoscenza di avere un privilegio. Il privilegio che la gente a volte affida nelle tue mani la sua vita. E tu devi avere la conoscenza di questo e devi essere divorato dall'orgoglio e dal dubbio di ogni scelta. Se lo fai con superficialità come finisce tutto. Ma d'altro canto si rischia questo. Tutti abbiamo visto come è stata distrutta la scuola. Perché è stata distrutta la scuola? Gli insegnanti gli hanno tolto i soldi, gli hanno tolto il prestigio, non gli è rimasto più niente. E sono diventati gli impiegati. Alla merce dei genitori che chiedono sempre di più e pensano che ogni figlio è un genio. E che viene soltanto... La stessa cosa sta diventando... La medicina. Ma è chiaro. È chiaro. Pensa un po' come si è svilitto il ruolo del medico di medicina. Colpa propria. Perché quando poi tu fai fare le ricette alla segretaria, fai fare... Cioè non curi più le persone, non ci metti le mani addosso, non gli fai sentire... Cioè non ti assumi la responsabilità delle scelte. E poi è chiaro che diventa cala il prestigio. E questo interessa un po' tutti. In più mettici la diffusione della informazione mediatica in cui una parola su internet è il... Il Vangelo. E allora diventa un guai. Perché devi sapere... Discerve. Non so se tu hai letto mai il bugiardino di una... Eh, non. Prova perché tu non vuoi ammalarti e quindi non metti la testa sotto la salta. Ma se dovessi prendere una medicina e tu leggi tutti gli effetti collaterali... Non la prendi. Non solo non la prendi, ma tu che la prescrivi e se li cominci a esaminare ti rimane solo una cosa. Puoi mettere la mano sulla spalla. Qualcuno lo fa ed è un santone. Vogliamo vedere alcune diapositive che accompagneranno la sua relazione in questo congresso? Parlando di sovradiagnosi e d'altro, dottor Paperoni? Bene. Beh, questa è una delle frasi con cui io inizio questa relazione. E fondamentalmente è tratto dal Ludovico Ariosto. Ora, c'era una sorta di prova che veniva fatta. che veniva fatta in cui i cavalieri bevevano un calice di vino e se si sbrodolavano la moglie gli aveva messo le corna. Bene. Chi a un certo punto uno dei personaggi si rifiuta dicendo semplicemente io vi dice alquanto pensar volle prima che ai labbri il vaso si appressasse pensò e poi disse ben sarebbe folle chi quel che non vorria trovare cercasse. Mia donna è donna ed ogni donna è molle. Lascia stare mia credenza come stasse sin qui ma il credere mio giovato è giovane. Quindi, non arriviamo alla tua filosofia che è quella di non cercare nulla però non dobbiamo cercare la malattia. Cioè l'uomo e il medico prima dovevano fare due cose far star meglio chi stava male e pensare di farlo vivere di più. Ora, io me lo pongo sempre questi due e devo dire che molte volte c'ho dei dubbi. Noi abbiamo una classificazione in medicina perché ormai si va per linee guida e le linee guida sono diventate il Vangelo il Vangelo poi in realtà non è un Vangelo deve essere sempre interpretato però la norma è questa. Allora, nel classe 1 significa che tutti sono d'accordo. Classe 2 significa che alcuni sono d'accordo e altri no. Poi ci dividono in 2A e 2B e così via. Classe 3 in cui tutti sono d'accordo che una cosa non bisogna farla. Allora, sulla classe 1 è difficile dire no ma sulla classe 2 è giusto dubitare e sulla classe 3 è bene non fare. E allora non si ha l'idea di quante cose vengono fatte in classe 3. Dice perché vengono fatte perché non le interpreta come vuole oppure perché non le conosce. E in questa filosofia lei tu hai un modo di interpretare la tua non la tua missione la tua professione di medico in una maniera secondo me particolare. Io non so se questa sia frutto dell'esperienza maturata in un ciclo di vita nel tuo settore o se al contrario sono idee ben chiare che erano due anche quando da giovane medico approcciavi alla cardiologia. Sicuramente ho avuto dei grandi maestri su questo non c'è dubbio. Il primo è il dottor Di Luzio che è stato veramente un maestro da questo punto di vista. però credo che proprio nella professione ognuno ci prostiti la propria cultura la propria educazione e il proprio saperferro che poi vengono modificati nel corso degli anni nel corso ma cioè quello che si sta perdendo sono le regole basilari sono le regole basilari cioè noi abbiamo copiato dall'America e non abbiamo copiato dai cugini ricchi che sono che è la Francia perché dall'America l'America ha non una uniformità ci sono prestazioni mediche che non vediamo neanche nei posti più marginali d'Italia e prestazioni mediche che sono il top cioè c'è una grandissima diversità e il medico il più delle volte deve difendere il paziente dall'assicurazione perché l'assicurazione non vuole pagare e il medico vuole quindi c'è quel tipo di controllo in Italia all'inizio avevamo una medicina diversa in cui chiaramente la tecnologia era meno sviluppata in cui c'era la necessità di dover indagare in cui molte volte la diagnosi veniva fatta in base a chi aveva più autorità chi aveva più autorità aveva ragione 40 anni fa si operava di stenosimetralica quando si diceva il cardiologico diceva questo c'era la stenosimetralica si operava poi se ce l'aveva non ce l'aveva è rilevante l'eco ha portato alla democratizzazione della medicina quindi ha fatto sì che una platea molto più grande e molto più diffusa di cardiologi potesse accedere alla diagnosi precisa quindi si è state sempre più controllate ma l'idea di qualcuno che ti controlla in Italia non c'è non c'è ed è un limite grosso perché i DRG sono nati per l'assicurazione americana in cui c'è un controllo in Italia il controllo al di fuori delle chiacchiere al di fuori del fatto formale non c'è per cui molte volte si contrabbanda la libertà di azione la libertà professionale come il diciamo la possibilità di poter fare ciò che si pensa perché uno l'ha detto e questo vale a tutti i livelli non è che dobbiamo arrivare all'epicalità a tutti i livelli io lo vedo ogni volta se non sono d'accordo il medico tuo di famiglia mi chiama mi telefona mi dice perché non ti vuole dare quella medicina me lo spiega si assume la responsabilità no e questo è duro e come dice lei non è soltanto nel vostro campo così è nella vita ah ma io sono convinto e questo è drammatico perché io so benissimo che la medicina è la cosa che va meglio in Italia e la cosa non c'è nessuna branca in cui la diciamo l'Italia viene classificata al terzo quarto quinto sesto settimo posto non nella medicina no no è solo la medicina solo la medicina che è al top appunto dico non la medicina ma se prendiamo l'università siamo al centesimo centocinquantesimo posto se prendiamo la giustizia non ne parliamo se prendiamo la libertà di stare non esistono altre cose eppure ci sembra scontato e normale quando sono state fatte delle conquiste enormi però perdere le conquiste che dicevo prima dà fastidio dà un po' fastidio pensa un poco che cosa è stata la rivoluzione del medico condotto quando l'hanno fatto in ogni paesino ci hanno messo un medico che era una cosa che faceva tutto e che era un punto di riferimento cioè un tipo di organizzazione che poi abbiamo piano piano disgregato con le parole pensiamo di poter sostituire i fatti ed è falso tu non potevi non fare richiamo alla storia avendo avuto la possibilità e il piacere di organizzare questo popo di roba che sarà questo congresso internazionale di venerdì noi abbiamo poco più di due minuti prima dei saluti siccome sono rimasto anche impressionato da quella diapositiva a leggere Ludovico Riosto qualcuno che ha cambiato in quel momento canale chissà che ha pensato invece stiamo provando a parlare di medicina in maniera diversa se la regia vuole e può ed è nella condizione di poterci mostrare una seconda diapositiva e questo è il bilancio del farmacista in cui devi bilanciare i pro e i contro di ogni cosa cioè il rischio tra emorragia e trombosi che io vivo ogni giorno e che stanotte mi ha angosciato su una paziente di cui parleremo nel congresso è il rischio tra la trombosi e l'emorragia cosa devi preferire il momento il paziente sta male preferisci che non abbia l'emorragia ma con questo tu blocchi la terapia anticoagulante e rischia che si blocca la valvola quindi avere questa e questo non te lo dicono le linee guida te lo può dire l'esperienza te lo può dire che è bello l'amore nei confronti nei confronti anche del paziente che alcuni ti saranno più simpatici altri meno simpatici con alcuni avrai maggiore empatia ma non devi vedere solo l'organo Leonardo ha visto tutto delle valvole ma devi vedere l'uomo nel suo complesso e questo bellissimo l'immagine ora quando si pensa che puoi mettere uno scanner nel fotomercato e vedere arrivi a questa follia ma c'è qualcuno di grandi medici che l'ha suggerito facciamo lo scanner a tutti vediamo tutte le coronarie e vediamo come vanno le cose allora quindi primo non nuocere è fondamentale e quindi primo non nuocere non è facile non è facile e poi e poi tutto la genetica ci può dare grandissimi vantaggi ma ci può fare impazzire cioè una volta ti facevi leggere la mano dal col d'altro canto se tu sai che tra 15 anni ti viene l'alzheimer e non hai nessuna terapia preferisci saperlo oppure no non puoi attualmente non c'è la terapia preferisci saperlo che tra 15 anni ti viene l'alzheimer no egoisticamente no per come sono fatto io sicuramente no e allora a far impazzire te e il resto della famiglia certo certo è statistica poi puoi sbagliare a me piace molto questa chiave di lettura della vita ancor più che della medicina congresso internazionale di ecocardiografia si chiama prova d'orchestra tra i tanti relatori anche storici e di storiografia come abbiamo sentito sarà presente Miguel Angel Garcia Fernandez che dicono è fra i primissimi cardiologi europei e sarà nella location più bella del nostro territorio che è la fortezza di Civitella del Tronto venerdì 17 dal mattino alla sera alcuni valenti colleghi del dottor Paperone mi dicevano prima della messa in onda di questa trasmissione che oltre 20.000 contatti sono stati registrati non soltanto nel mondo medico ma dalla rete per questo appuntamento io lo dico soprattutto per i residenti anche per i non medici anche per coloro che curiosando nelle bellezze di Civitella del Tronto avranno la possibilità di sentir parlare in una maniera diversa della medicina e della cardiologia chi non potesse sappi che potrà seguire i lavori sulla nostra emittente già a partire da venerdì sera io ti ringrazio per la disponibilità ho avuto il piacere di conoscerti solo stamattina ma mi sembra che ti conosco da tanto e ci ritroveremo con un 45 giri in versione normale sempre su Super J ovviamente nei prossimi giorni grazie della cortese attenzione super J Grazie a tutti.